La Sicilia di oggi è decisamente diversa rispetto alla Sicilia dei suoi avi? Effettivamente sì, molto diversa, purtroppo. All'epoca dei miei nonni la Sicilia era la capitale europea, non c'era persona che non venisse in Sicilia ad ammirare le bellezze che noi abbiamo. Si è spenta all'età di 70 anni Costanza Afan de Rivera, erede dei Florio e testimone della Sicilia più bella. Costanza era la figlia di Giulia Florio, la donna che nel suo palazzo romano salvò numerosi ebrei da rastrellamenti nazisti e componente della famiglia che ha scritto una delle pagine più belle della storia siciliana, portando l'isola al centro del mondo in vari settori. Dinastia di armatori, imprenditori del vino, della conservazione del pesce, della ceramica, delle motori e del turismo, i Florio sono stati i protagonisti di un'epoca d'oro per la Sicilia. Una storia che oggi sembra solo un vecchio ricordo, che la figlia di Giulia Florio cercava di non far dimenticare. Romana, nipote di Ignazio e Franca Florio, Costanza è morta nella casa di famiglia in provincia di Viterbo a causa di un male. Qui, la ricordiamo, i due intervista rilasciata qualche anno fa a Massimo Raimondi. Noi abbiamo tutto e purtroppo oggi questo tutto non viene valorizzato e me ne dispiace moltissimo. Cosa prova quando vede qualcosa del patrimonio importante, culturale, che hanno lasciato i suoi avi, che va perso? Parlo per esempio delle varie tonnare, di tutti quegli eventi che una volta ai tempi di Florio erano in auge. Beh, non solo, per tutto ciò che rappresenta Florio e che va in malora, diciamo, mi sento male. Mi sento male per qualsiasi bel monumento siciliano, bel palazzo siciliano, che va in disuso, che finisce rudere, che finisce abbandonato. Ma purtroppo oggi le istituzioni non ci aiutano più, non aiutano a mantenere questi palazzi. Devo dire e devo ringraziare invece moltissimo per la conservazione della tonnara Florio a Favignana, che ne hanno fatto un polo turistico e di insegnamento su quello che è stata questa tonnara. Perciò lì devo solamente che ringraziare. Per il resto, beh, effettivamente troppe belle cose palermitane e siciliane stanno andando in malora, anche se la parola non è molto bella, ma è questa la realtà, sì. Cosa direbbe suo nonno oggi vedendo dove va la Sicilia? Si girerebbe dall'altra parte e non guarderebbe, perché veramente la Sicilia in questo minuto non è più la capitale europea come era una volta. È un grosso dispiacere per me vedere le copertine dei giornali che rappresentano la Sicilia con la Sicilia e la Coppola, la Sicilia e la Lupara o la Sicilia e gli spaghetti. Noi non siamo questo. Noi siamo un popolo veramente baciato da Dio. La nostra terra c'ha tutto. Nell'associazione che ho fondato anni fa, la Sicilia De Florio, noi facciamo venire gli stranieri, ma anche gli italiani, a conoscere la Sicilia veramente, che non è quella rappresentata dalla mafia, dal brigantaggio e dalla paura. Noi siamo un'isola luminosa, aperta. I siciliani sono meravigliosi nella loro accoglienza con gli stranieri. La Sicilia merita di essere vissuta. Perciò qui faccio proprio un appello perché venga il turismo, perché la gente deve venire a conoscerci prima di giudicarci. Poi, casomai può tirare le somme, ma le somme saranno sicuramente a favore di questa terra.